Amici del Draghissan, qui è Pasqua. Coletti, caniglietti, dolcini. Ci sono anche le margheritine decorative, guardate che carina. Le vesti. Uovi. Alcini. Questo ragazzo è troppo carino. E' bella. Gioletto. Gioletto. E' troppo carino. Ci sono i barattolini. E' questa è la mia sessione. I cartolini. E' bella. 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 E' bella.